Potente appara ragazzi, qua Vax, l'ho giomigato, oggi sono da solo e sono qui a presentare un nuovo video Che ragazzi è un nuovo video abbastanza speciale e credo che sia molto utile per la maggior parte di voi Perché oggi sono qui a presentarvi lo squad builder che potete, o meglio la squadra che potrete utilizzare durante la St. Patrick's Cup Innanzitutto se mi state sentendo quasi ridere è perché è tipo la nona volta che ricerco di fare questo commentary Quindi speriamo che questa volta sia la volta buona E poi ragazzi iniziamo subito col dirvi o meglio col presentarvi questa coppa Questa coppa è quel particolare torneo che FIFA Ultimate Team mette ogni anno durante il giorno di San Patrizio O meglio in occasione del giorno della festa di San Patrizio Quando è questa festa? La festa è il 17 marzo 2014 È ogni 17 marzo E appunto per coronare questa festa FIFA Ultimate Team ha deciso di fare un torneo apposito Solamente come si fa a partecipare a questo torneo? Per partecipare a questo torneo ci sono dei requisiti anche abbastanza tattici Infatti per partecipare si può avere o una rosa costituita tutta da giocatori irlandesi O una rosa costituita tutta da giocatori del Northern Ireland Oppure una rosa costituita da tutti quei giocatori che giocano nello stesso campionato Che campionato sarà? Ovviamente campionato irlandese E quindi ho detto eh no eh no eh no Io non posso far vedere i miei scritti che squadra io utilizzerò per questo torneo Ed eccoci qua a presentarla Innanzitutto ci tengo a dire che ovviamente i prezzi sono anche abbastanza alti Questo perché come avevo detto Come io avevo detto in precedenza Voi vi dovevate tenere gli irlandesi che trovate nei pacchetti Per appunto rivenderli durante la coppa di San Patrizio Perché? Perché dato che la gente la vorrà fare È disposta anche a pagare assai per dei giocatori che non valgono niente Pur di cercare di partecipare a questa coppa Infatti io adesso vi proporrò quella che secondo me Potrebbe anche essere Potrebbe essere anche la miglior squadra per questo torneo Però ovviamente E però ha un suo determinato prezzo Infatti andrò a spendere 70.000 crediti solo per gli attaccanti Quindi vi proporrò anche una versione O meglio vi dirò che giocatori potreste utilizzare Al posto dei giocatori che ho utilizzato io appunto per spendere meno Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica Poi sono abbastanza contento perché io avevo detto O meglio per gli iscritti che mi avevano chiesto Se secondo me ci sarebbe stata questa coppa E vi avevo detto di sì Quindi mi sono rivelato quasi un veggente Una cosa abbastanza tattica Comunque poi vi volevo un attimo dire grazie Grazie per tutto il supporto che mi state dando per gli ultimi video Veramente poi ho visto anche di essere Di aver raggiunto il traguardo dei 300 video E ragazzi è una cosa fantastica Perché non me ne sono accorto? Perché come credo molti di voi sappiano Io carico video perché mi divertono Quindi non sto attento a quanti video carico Se però ora state notando una mia minore attività Diciamo sul canale Questo è perché devo studiare e ho altre cose da fare Ovviamente YouTube sarà E sarà Sempre per me un divertimento Questo è anche perché Il motivo per cui non vi carico più un video al giorno Sia perché non ho più tempo Ma perché poi dopo un po' iniziano I video che si caricano ogni giorno Iniziano quasi ad essere monotoni Si dicono le stesse cose Si fanno sempre le stesse serie Quindi io magari preferisco portarne uno Ogni due Ogni tre Per farci due risate insieme Ma che abbiano qualcosa di speciale Che spero voi possiate cogliere Comunque io direi di partire Anzi prima di iniziare Volevo ricordare di passare La FIBA Con il test Il link lo troverete in descrizione E partiamo subito Innanzitutto ragazzi Vi presento subito l'elemento Che fa più defecare della squadra Infatti Importa Sono costretto ad utilizzare Given Allora dico che sono costretto Perché è l'unico giocatore O l'unico portiere oro Che ho Perché secondo me Per i portieri Su questo FIFA Non esistono portieri valutati poco E buggati Quindi ho detto Devo prendere quello valutato massimo In questo caso È Given Se non mi sbaglio E ragazzi Se voi avete un giocatore Un portiere irlandese Più Abbastanza forte Magari anche d'argento o bronzo Scrivetemelo nei commenti Perché a me Given Fa veramente schifo È proprio l'unico giocatore Della squadra Che non vi consiglio Perché vi dico questo? Perché il resto della squadra Ragazzi Mi è piaciuto veramente tanto Infatti andiamo a vedere la difesa Allora In difesa Utilizzo Gunning Gunning ragazzi O Gunning Chiamatelo come volete L'ho pagato La bellezza di 200.000 crediti Che è un sacco Però anche la sua versione Non in forma Quella normale di bronzo Costa all'incirca 10.000 crediti Ma avevo provato anche quella E vi posso assicurare Che è fortissima anche quella Ma questa ragazzi Ha qualcosa di magico Io mai me lo sarei aspettato così forte Se non avete i soldi Per comprarvi neanche la sua versione Non if Che giocatori O meglio Che difensori vi consiglio Ve ne consiglio uno Perché gli altri due Saranno molto economici Che è questo qua D&I D&I l'ho pagato 750 crediti Ma ha delle statistiche In game abbastanza forti Ora non ho la possibilità di dirvele Perché non ho frittato davanti Ma se l'ho scelto C'è un motivo Poi vabbè Come terzino destro Vi consiglio anche Kelly Passiamo invece E gli altri due difensori centrali Allora da una parte Utilizzo Clark Clark che ragazzi L'ho pagato 8800 crediti Quindi anche abbastanza Però lui ha un'ottima forza fisica Un'ottima difesa E un ottimo colpo di testa Infatti secondo me Per questo torno Li potete anche spendere 8800 crediti Mi ricordo che su Viva13 Costava 9000 crediti Dunne Che era un giocatore Veramente scarso Per essere un difensore E poi altro difensore centrale Utilizzo Keogh Che gioca nel Derby Country Ecco di quale squadra è il mio stemma Sì scusate E l'ho pagato 4900 crediti Anche lui l'ho pagato tanto Però vi ho già detto il motivo Comunque 70 di velocità 71 di difesa E 73 di testa Lo rendono un giocatore Veramente forte Per quello che l'ho pagato Perché alla fine va bene Può essere anche considerato Come difensore buggato Passiamo invece Al centrocampi Al centrocampi difensivi Al centrocampisti Difensivi centrali Allora Da una parte Utilizzo Wilson Wilson ragazzi L'ho preso Se non mi sbaglio Anche lui Per l'alto valore Di difesa Infatti ha 74 di difesa Vabbè poi 68 colpi di testa 65 di velocità Comunque gioca nello Stock City Ho fatto solo due partite Con questa squadra Mi ha fatto 0 gol Però come vi ho già detto Mi trovo veramente bene E ragazzi Ha 4 stelle di piede debole Quindi potete utilizzare Anche il sinistro Che è una meraviglia E passiamo invece All'altro centrocampista Difensivo centrale Come altro CC O meglio CDC Utilizzo McCardy Che gioca nell'Everton Giocatore oro L'ho pagato solamente 1300 Infatti ve lo consiglio La stragrande 4 stelle di mosse Piede debole Anche lui molto forte 3 stelle di mosse abilità Alto 180 cm Devo dire che mi è piaciuto Anche lui Ma io Adesso vi dirò A ogni giocatore Che mi è piaciuto Perché mai mi sarei aspettato Che questa roba Mi piacesse così tanto Mi è veramente piaciuta E se avete le possibilità Se disponete dei crediti necessari Provatela Perché è veramente Una roccia Si possiamo così definirla Come CC O meglio come CDC Potete utilizzare anche Gibson E se non volete Potete utilizzare anche Gleason Ora magari vi lascerò le foto Che gioca nella Football League 1 Nell'MK Dons È un CDC E costa la bellezza Di 2000 crediti Quindi veramente poco Passiamo agli esterni Allora come esterno destro Beh utilizzo McGuidi McGuidi che avevo trovato In un pacchetto Non so proprio quanto costi Come vedete sono il primo proprietario 5 stelle di piede debole 4 stelle di mosse abilità Non avete soldi Per comprivi McGuidi Non è un problema Perché potrete assolutissimamente Provare Ayes Ayes è un argento Irlandese ovviamente In che squadra gioca Gioca nell'Uberdin Anche lui Sempre nella Scottish Premier E ragazzi Costa solamente anche lui 2000 crediti Ed è veramente forte Poi invece passiamo All'esterno sinistro Esterno sinistro Utilizzo Mecklin E ragazzi Mecklin a me piace un sacco Due partite Anche lui 0 gol Però 2 stelle di piede debole Che fa abbastanza schifo Ma 4 stelle di mosse abilità E i suoi workers Secondo me sono molto buoni Infatti ha alto E normale Con lui potrete andare a tirare Anche abbastanza bene Ma fare anche le skill Quindi ragazzi Lui ve lo consiglio L'ho pagato 9400 crediti Se non avete i crediti Per provare lui Vi consiglio di provare Aspettate un secondo Brady Che costa All'incirca la metà Infatti costa 5000 crediti È forte anche lui Ma tra McLean e Brady Io non Cioè è veramente forte McLean Passiamo al reparto avanzato Infatti come COC Utilizzo Ireland Che mi piace Qualche volta sì E qualche volta no O meglio In una partita mi è piaciuto E nell'altra no Infatti Magari andrò a provare Gibson direttamente Come anche Ho la Han Ho la Han E niente da dire Poi come altri COC Vabbè vi riconsiglio Il pelatone di prima Adesso non mi ricordo più Come si chiami Si chiama Flood Se non sbaglio Sì si chiama Vi posso anche consigliare Flood Comunque io preferisco Utilizzare lui Perché rispetto a Flood Ha un passaggio Un po' più elevato Infatti Flood ha 63 Mentre Ireland Ha 71 Passiamo invece Ai due attaccanti E beh E beh Infatti come due attaccanti Utilizzo da una parte Long Pagato la bellezza Di 47.750 crediti E dall'altro Utilizzo Stokes Pagato la bellezza Di 19.750 crediti E ragazzi Devo dire Che a me questi due attaccanti Piazzano veramente tanto Se avete la possibilità Di provarli Prendeteli Perché sono veramente forti In alternativa Che giocatore vi consiglio Allora Per primo c'è ovviamente Robby Keen Che costa all'incirca Sui 3.000 4.000 crediti 4 stelle di piede debole 3 stelle di possibilità Non l'ho mai provato Quindi potrebbe anche essere Un giocatore buggato Chi lo sa Fatemi sapere Se voi l'avete provato Se lo definite tale E poi affiancato Da Madden Madden Chiamatelo come volete Costa all'incirca Sui 2.500 crediti Comunque È un attaccante Che ha 82 di velocità Quindi non mi sembra Affatto male Ovviamente Se avete crediti necessari Prendete questi due attaccanti Perché sono veramente forti Quindi ragazzi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto E vi devo dire una cosa Domani ragazzi Mi sa Mi sa Mi sa Che farò due video In che senso Uno lo farò uscire Per dirvi Cosa dovete fare Che tipo di compravento Dovete fare Durante questo torneo Proprio durante Non prima E non dopo E secondariamente Forse Nel pomeriggio Prima di uscire Appunto Prima di uscire La sera Farò un video Nel quale Farò un live streaming Nel quale Cercherò di vincere Questo torneo Quindi ragazzi Se potete Scrivetemi qui sotto Se a voi Lo vorreste vedere Oppure Se ci sareste A vederlo Se sareste disponibili A vederlo nel pomeriggio Cerchiamo di far raggiungere Questo video I 2.000 mi piace E detto questo Io vi saluto E vi dico potente Para il siguiente Al prossimo video Bolla